Una normale lite tra fidanzati è diventato un episodio di inaudita violenza che ha visto protagonista una ragazza di 18 anni di Casalvelino. La giovane è stata legata e picchiata selvaggiamente dall'affidanzato per tutta la notte. L'uomo, un trentenne marocchino proveniente da Santa Maria di Castellabate, ma da tempo residente a Casalvelino, ha precedenti per droga, istorsione e minacce. Solo all'alba la ragazza, nonostante la disperazione, ha trovato la forza di ribellarsi e fuggire dalla casa del terrore. Ha evitato probabilmente conseguenze ben più gravi l'inaspettato arrivo all'alba di una zia della giovane che era andata a farle visita. Il marocchino, udito il campanello, si è sentito messo alle strette e così ha slegato la ragazza, che così è corsa alla porta per fare entrare la parente. A nulla sono valse le minacce del fidanzato Aguzzino. La diciottenne, in preda al panico, ha raccontato comunque l'orrore vissuto alla zia. Così le donne, messesi in fuga, hanno raggiunto i carabinieri. Informati dell'accaduto, i militari si sono subito messi sulle tracce del marocchino che, identificato, è stato arrestato e tradotto nel carcere di Vallo della Lucania, su disposizione del pubblico ministero Valeria Palmieri. Nell'abitazione dei due fidanzati, i militari hanno sequestrato tutto il materiale probatorio, le corde utilizzate per immobilizzare la giovane, il bavaglio e il coltello con cui il trentenne ha per ora intimorito la diciottenne. Grazie a tutti.